Incidente nella serata di domenica 16 giugno, poco prima delle 19.30, Busano sulla strada provinciale 13, all'angolo con via delle Nocette. A scontrarsi una Volkswagen Polo con a bordo un uomo di Busano e uno scooter chimico condotto da un uomo di Bairo. Lo scooter è finito a terra, sul posto sono prontamente intervenuti la croce rossa di Rivarolo Canavese, la protezione civile di Busano per la viabilità, i carabinieri del nucleo radiomobile di Veneria Reale e il vice sindaco Leonardo Corvo. Il centauro, ferito dopo le prime cure, è stato accompagnato all'ospedale di Cornier, non è in pericolo di vita, illeso il conducente della vettura. La carreggiata è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario per permettere l'operazione di soccorso e i rilievi dei carabinieri. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS